Pomeriggio aquilano per il senatore Maurizio Gasparri, responsabile enti locali di Forza Italia. Gasparri all'auditorio Mance ha preso parte ai lavori congressuali del Movimento Cristiano Lavoratori. La visita di Gasparri però ha avuto anche un fine più eminentemente politico. All'Aquila infatti da tempo si registrano frizioni in comune tra Forza Italia e il sindaco Pierluigi Biondi di Fratelli d'Italia. Su questo aspetto da Maurizio Gasparri che pure non si è sbottonato più di tanto arrivano dichiarazioni che comunque sanno di volontà di arrivare ad una distensione dei toni e a una quadra di coalizione positiva, questo anche in vista delle prossime regionali abruzzesi del 10 marzo 2024. Io sono in Abruzio all'Aquila per il congresso del Movimento Cristiano Lavoratori che fa riferimento alla galassia del popolarismo europeo quindi per un saluto a un mondo che dal punto di vista sociale, culturale e valoriale trova grandi assonanze anche col mondo di Forza Italia e col mondo che si ispira ai valori del popolarismo. Dopodiché reputo educato portare un saluto anche al sindaco dell'Aquila perché sono anche responsabile nazionale antilocale di Forza Italia. Poi le vicende dell'Aquila troveranno la loro dinamica diciamo locale quindi io sono qui per partecipare a questo congresso e stabilire una sintonia valoriale con l'MCL. Il resto fa parte delle cronache quotidiane che troveranno sicuramente le migliori soluzioni sull'onda dello sforzo importante che il centrodestra sta facendo in Abruzzo e all'Aquila perché questa città e questo territorio ritrovi come sta ritrovando la sua forza, la sua capacità di protagonismo e poi abbiamo anche le regionali in prospettiva insomma quindi è un momento importante per tutti noi e anche per la nostra coalizione e anche per Forza Italia che sta dimostrando vitalità, presenza e anche in Abruzzo in questi mesi ha registrato tante adesioni, tanti apporti, una politica di allargamento che insomma ci conforta quindi le cose minori troveranno le loro soluzioni.